Ok, eccomi lì già è tornata. Ecco, ho preso il mio manzo slime. Adesso vediamo. Sì, lo mangia! Sennò non devi sputarlo. Vediamo questo piccolo. Aiuto, mi scivo. Perché non lo mangi? Perché? Aspetta, adesso lo sto risucchiando. Aiuto! È volato, avete visto? Perché non lo vuoi mangiare? Eh, perché? Non lo vuole mangiare! Allora, tu devi fare i conti adesso con me. Devi mangiarlo! Non lo vuole mangiare! Ah, se l'hai mangiato con la forza! Come vedete non c'è! Non imbroglio! Non imbroglio! Allora... Adesso... Oh, eh... Non ho fudato, ok. Manca il tempo, sarà che non... Non l'ha digerito... Non l'ha digerito bene! Non l'ha digerito bene! Eh, non l'ha diger... Digerito bene! Vediamo quello rosa! Non l'ha digerito!